Ci sono alimenti che spesso riteniamo dietetici o, comunque, salutari ma in realtà nascondo delle vere e proprie mine per la dieta. Scopriamoli insieme. Quando si decide di smaltire qualche chilo di troppo spesso, prima di ricorrere a un auso esperto, in fin dei conti sempre l'unico passo valido da compiere, si cerca di basare il proprio personale regime alimentare su alimenti comunemente ritenuti light. Nell'immaginario comune infatti alcuni ingredienti sono generalmente valutati come a prova di dieta, perfetti dunque per dimagrire senza troppe privazioni. Ma le cose stanno veramente così. Oggi scopriamo di no e, anzi, vi sveliamo ben dieci alimenti falsamente ritenuti in assoluto amici della dieta ma, in realtà, carichi di insidie che spesso ignoriamo del tutto o quasi. Potrebbe interessarti anche, cinque alimenti che credevi light e invece fanno ingrassare E chiariamo subito, i dieci alimenti qua sotto sono veramente spesso inseriti in diversi regimi alimentari a scopo dimagrante ma ciò può avvenire solo se li si conosce bene e si sanno fare abbinamenti ponderati. Scopriamo allora insieme le insidie che nascondono. Potrebbe interessarti anche, mangiare solo verdure all'inizio avranno un effetto depurativo e toglieranno ogni gonfiore ma poi porteranno gravi carenze nutrizionali. Inoltre, mangiare solo verdure non sazia e, di conseguenza, farà avvertire un senso di fame che porterà facilmente a cadere in tentazione. Succo di frutta Pensate sia l'equivalente di mangiarsi un frutto. Sbagliato. Qui il vero protagonista sono gli zuccheri, che impatteranno sulla glicemia e sull'aumento di peso. Al massimo fatevi una bella spremuta. Salsa di soia l'errata credenza è di trovarsi di fronte a un condimento vegetale e, per questo, totalmente innocuo. La salsa di soia contiene invece un alto contenuto di sale, alleato della ritenzione idrica e della cellulite. Cereali Non tutti i cereali sono uguali. Decisamente meglio evitare i cereali raffinati o pieni di zucchero, che provocherebbero un picco glicemico e quindi un aumento di peso, oltre a un immediato senso di sazietà che però si esaurirebbe con altrettanta velocità, spingendo a fare altri spuntini utili solo ad ingrassare. Yogurt almeno che non stiamo parlando di yogurt naturale o probiotico o anche di yogurt greco, bicimante non si tratta di uno puntino dietetico. Grazie. 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 Grazie.